Visto il grande risconto, la mostra personale di Luca Capizzi, Passioni, è stata prorogata fino al 30 settembre. La mostra di pittura dell'artista goriziano rimarrà visibile presso la sede del Palazzo Municipale di Via Garibaldi. Da sempre appassionato d'arte, Capizzi si è specializzato sul tema della figura umana ed è in particolar modo sulla figura femminile protagonista per dilettere le sue opere. Oltre alla pittura, l'altra grande passione dell'artista goriziano è la musica, in particolare al jazz. Grazie a questa passione, le sue ultime opere sono un omaggio alle principali icone del mondo pop.